Ancora, ancora, ancora Perché io da quella sera non ho fatto più l'amore senza te E non me ne frega niente senza te Anche se incontrassi un angelo in te Ancora, ancora, ancora Bene, anche questo è Mezzogiorno Italiano che va in onda tutti i giorni dalle 11.45 alle 13.45.